Nel quadro delle celebrazioni della cucina italiana nel mondo, giunte quest'anno alla nona edizione col titolo Dieta Mediterranea e la cucina delle radici, salute e tradizione, anche in Irlanda le rappresentanze istituzionali come Ambasciata e ICE hanno organizzato a Dublino e altre città irlandesi eventi celebrativi. Il 18 novembre verrà proiettato al cinema Odeon di Dublino il film The Truffle Hunters, cioè il cacciatore di tartufi, tartufi che hanno un posto d'onore nel settembre della settimana di quest'anno. Il 19 novembre allo Yacht Hotel di Dublino sarà tenuta una conferenza sul tema con assaggi e vari interventi di personalità italiane e irlandesi nel settore culinario e vinicovo, inclusa la scuola di cucina italiana che fa capo a Flavor of Italy. Nell'ambito della settimana alcuni ristoranti italiani a Dublino e altre città irlandesi includeranno nel loro menù piatti specifici per la promozione della dieta mediterranea in Irlanda. Per maggiori informazioni rivolgetevi all'ufficio ICE presso l'Ambasciata d'Italia a Dublino.